salve a tutti amici e amiche il video di oggi parlerà di corrado ricci asso dell'aviazione italiana che partecipò alla guerra civile spagnola e poi alla seconda guerra mondiale nel difficile teatro dell'africa orientale italiana in particolare il video sarà dedicato proprio a questa esperienza come comandante di squadriglia e pilota nei combattimenti contro gli inglesi fra eritrea etiopia e somalia come sempre cari amici non dimenticate di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale è fondamentale è solo grazie a voi che riesco a portare avanti questo impegno e con i vostri commenti sta diventando una piccola comunità un momento di aggregazione e condivisione di questi temi ed approfondimenti spesso siete voi a proporre i temi dei miei video però oggi ho deciso di fare testi testa mia e raccontare la vita di questo pilota e la sua esperienza in africa per fare questo oltre alle poche notizie che circolano sul web ho preso spunto dalle sue memorie dal primo libro che ha scritto che si chiama la romantica squadriglia corrado ricci nato in toscana nel 1912 a 18 anni conseguiva il brevetto da pilota civile un anno dopo si arruolava nella regia aeronautica nel 1933 a 21 anni fresco di accademia con il grado di sottopendente e pilota in servizio permanente veniva integrato presso la 79esima squadriglia del sesto gruppo primo stormo caccia terrestre equipaggiata con il cr 32 un anno dopo nel 36 partiva volontario così per combattere nella guerra civile spagnola ottenendo il 13 novembre la sua prima vittoria aerea contro un i-15 di fabbricazione russa sopra il cielo di madrid e il 19 novembre abbatteva poi un i-16 questo un monoplano sempre di fabbricazione russa poco tempo dopo ottenne poi la sua terza vittoria aerea contro un ricognitore era il 18 luglio del 1937 rientrato in patria ottenne la nomina come comandante di squadriglia la 155esima del sesto gruppo basata sull'aeroporto di ravenna e quindi qui inizia il racconto del suo libro due anni dopo nell'agosto del 39 quando veniva trasferito con il grado di capitano in africa orientale italiana di base sull'aeroporto di dire d'agua con i velivoli cr 32 il viaggio sulla nave leonardo da vinci carica di aeroplani specialisti e piloti avvenne senza intoppi salvo il fatto che superato il tropico e l'arrivo a massawa alle 6 del mattino il caldo aveva ammietuto la sua prima vittima un marinaio della nave una volta sbarcati la squadriglia raggiunse l'aeroporto prendendo possesso degli alloggi ricci raccontò di avere trovato un caldo pazzesco che non dava tregua neanche di notte con i piloti gettati come stracci sugli scalini della rimessa gli specialisti nonostante questo caldo si misero all'opera per montare gli aeroplani ma mancava qualcosa i collimatori comandante non riusciamo a trovarli una squadriglia senza collimatori è una cosa inconcepibile li hanno almeno spediti si comandante a napoli c'erano ma non li trovo più si stava parlando dei collimatori san giorgio dei tubi telescopici che si erano rilevati mortali per il pilota in caso di atterraggio di fortuna infatti ci si spaccava contro il cranio ricci insisterà allora per montare i normali collimatori a visuale libera dei semplici mirini di ferro posti davanti all'abitacolo dicendo tanto se dobbiamo sparare a bruciapelo quelli bastano e avanzano e questa diciamo previsione si rivelerà esatta il 10 giugno 1940 il gruppo iniziava così le operazioni il quadro della situazione non era delle migliori in tutto l'africa orientale italiana aveva una cinquantina di vecchie caprone che erano i ca caproni 133 per intenderci gli altrettanto vecchi s81 e una dozzina dei migliori s79 per il bombardamento a questi si aggiungevano una trentina fra cr32 e r37 e una ventina di cr42 come caccia questa forza aerea commenta ricci nel suo libro poteva andare bene contro le forze locali ma contro gli inglesi che dispongono di aerei moderni è tutta un'altra storia ma a parte questo il problema principale era il munizionamento dall'italia infatti erano arrivate solo casse di munizioni da addestramento di apparati radio poi sugli aerei da caccia manco a parlarne in ogni caso fu istituito un servizio di allarme aereo presso d'aria d'agua con aerei sempre pronti al decollo e infatti lo stesso giorno gli inglesi portarono sulla base il loro primo attacco aereo facendo danni minimi ad una rimessa e incendiando qualche fusto di carburante in risposta a questo attacco il comando aereo decise di rispondere con un'azione su aden in due ondate una diurna con gli sm 79 l'altra notturna con i più lenti s81 gli s 79 partiti alle prime luci dell'alba trovarono una reazione violentissima della caccia inglese che li inseguirà mitragliandoli a lungo sulla via del rientro tutti gli aerei vennero colpiti e costretti ad atterraggi di fortuna questo primo assaggio di azione dimostrò ai piloti italiani che gli inglesi avevano denti d'acciaio e mordevano piuttosto bene non avendo radio a bordo e per le prestazioni mediocre del cr32 che impiegava 20 minuti per salire in quota o almeno ad una quota operativa ricci fece in modo di tenere un aereo sempre in volo ed era un lavoro tedioso però questo gli dava un minimo di capacità di intervento ma nonostante questo gli inglesi andavano e venivano a proprio piacimento nelle poche occasioni di collimazione le finestre di tiro date le differenze di velocità enormi si riducevano immediatamente e la mancanza di munizioni vere e non da destramento fecero il resto il morale così era a terra specialmente perché nonostante tutto nel 1940 le forze di terra italiane avevano comunque una certa iniziativa nella conquista della somalia britannica un episodio significativo che viene raccontato nel libro è la conquista della città di berbera sulla costa in territorio somalo inglese questa azione era stata pianificata in anticipo con un enorme lavoro di ricognizione da parte dell'aeronautica fu prodotta una grande aereofotografia poi consegnata al comando si scoprì poi che questo enorme sforzo di ricognizione fu ignorato e l'esercito utilizzò vecchie carte topografiche che comportarono grandi ritardi nella movimentazione dei convogli errori di marcia e imprecazioni proprio contro l'aviazione quando quella ricognizione era costata ore di volo e il ferimento dell'osservatore che si era beccato addirittura un proiettile l'aeroporto di ergesia fu preso di mira da ricci e il suo gregario nei giorni successivi alle ricognizioni in attesa che venisse conquistato via terra durante una di queste azioni lui e puliti si spesero in un bombardamento impicchiata sulla base con i loro cr 32 armati con due bombe da 50 kg ciascuno dopo la picchiata ricci si guardò indietro per vedere le esplosioni almeno aveva puntato una stazione radio che aveva proprio che era sopravvissuta agli attacchi precedenti ma niente nessuna esplosione la stessa cosa per il suo gregario puliti dopo qualche secondo di volo livellato le bombe invece caddero da sole i dispositivi per lo sgancio delle piccole bombe erano stati improvvisati dai meccanici sul campo ricci e puliti in quei giorni erano andati a caccia di colonne inglesi più volte portandosi dietro le bombe e senza mai riuscire a sganciarle perché non li individuavano alla fine quello che era successo era che le molle di rilascio si erano rilassate e quindi il comando di lancio venuto il momento di usarlo si era preso il suo tempo rilasciandole a comodo la sera stessa il colonnello di brigata chiamò rapporto ricci mostrandogli cosa il servizio di ascolto aveva intercettato nelle comunicazioni inglesi che diceva oggi due caccia italiani hanno sganciato quattro bombe nella nostra zona uccidendo due uccelli ma arriveranno anche eventi drammatici come la missione del capitano amedeo parmegiani che con il suo s81 partito all'attacco di una nave inglese nel porto di berbera gli lancerà contro le sue bombe una ad una in più passaggi con metodo prima di essere ingaggiato a sua volta dalla caccia inglese che lo inseguirà fino alla base parmegiani venne colpito per primo da un proiettile ma continuò a pilotare l'aeroplano il primo mitragliere nel tentativo di difendere l'aeroplano venne falciato da una raffica e cadde a terra il meccanico di bordo cercò di sostituirlo al pezzo ma un proiettile gli attraversò il posto il polso destro lui cercò di usare a quel punto la mitragliatrice con la mano sinistra nel frattempo si accorse che l'aereo stava perdendo carburante quindi lasciata la mitragliatrice si arrampicò per tappare le falle con stracci che appunto strappava via aiutandosi con i denti e poi travasare il carburante residuo nel serbatoio non colpito tutto questo per permettere all'aereo di continuare a volare nel frattempo la caccia inglese continuava a sparare strappando via le cerniere e il timone e il carrello distrutto parmigiani riuscì a infilarsi alla fine in un fronte di nuvole che lo portò fino alla base da terra quando videro questi s81 avvicinarsi nessuno sospettava nulla apparentemente fece un buon atterraggio ma alla fine lo si vide avvitarsi su se stesso e capovolgersi gli uomini del personale avvicinandosi alla carcassa si accorsero in che condizioni si trovava l'aeroplano carburante e olio e sangue imbrattavano la fusoliera il portellone si aprì e il carico di vite umane che ne uscì era uno spettacolo straziante parmigiani il pilota sopravvisse all'azione e continuò poi a combattere nei giorni successivi e poi rientrato in italia continuò a combattere anche dopo l'otto settembre la sua carriera continua poi con la neonata aeronautica militare italiana entrando in servizio presso la 46esima aerobrigata distanza a pisa dove iniziò a volare sui fire shield c119 boxcar nel 1961 nella difficile missione umanitaria dell'onu in congo i due aerei italiani del contingente furono scambiati per aerei catanghesi carichi di paracatutisti e i soldati kindu irruppero nella base uccidendo parmigiani e i due equipaggi in quello sfortunato evento che oggi viene chiamato eccidio del kindu ma torniamo in africa orientale italiana alla fine del luglio 1940 finalmente arrivò qualche cassa di munizioni vere dall'italia e con queste seppure non perfette che causeranno continui inceppamenti i piloti italiani iniziarono a conseguire i loro primi abbattimenti ricci fece il primo abbattimento il primo agosto un blenheim inglese sei di questi aerei si portarono all'attacco del campo proprio durante il suo turno di guardia ai famosi 5000 metri di quota riusciti a darneggiarne tre uno di questi poi sarà costretto ad un atterraggio d'emergenza poco più avanti con l'equipaggio inglese che verrà catturato in quei giorni gli italiani conquistarono berbera e l'ex aeroporto inglese di ergesia ricci percorrendo con una camionetta l'area della pista vide i rottami di diverse camionette inglesi abbandonate e crivellate di colpi un pilota del suo gruppo puliti ne era stato il responsabile ma in un modo molto particolare per un racconto confidato solo dopo un interrogatorio personale con il suo comandante rendendosi conto che gli inglesi erano in ritirata avevano caricato anche i feriti a bordo delle camionette quindi non volendo sparargli e vedendo che quelli gesticolavano agitando stracci bianchi si mise a sorvolarli a lungo aspettando che questi smontassero e allontanassero i feriti dai veicoli dopodiché si era sentito tranquillo per poter fare il suo lavoro si era messo a posto con la coscienza insomma salvo il fatto che ognuna di quelle camionette aveva una mitragliatrice e per tutto il tempo della sua attesa sopra di loro quelli avevano continuato a sparargli da terra dirà poi comandante tanto avevano una pessima mira mica mi prendevano ma questa vittoria segnò anche il giro di boa nel conflitto in quell'area e gli inglesi con l'arrivo di rinforzi e reclutando forse nuove e volontari proprio in africa diventeranno sempre più aggressivi l'arrivo sulla scena degli hurricane poi si rivelerà determinante nel dominio del cielo cosa potevano fare dei cr32 voglio dire anche il cr42 era nettamente inferiore ad un hurricane i bombardamenti notturni e diurni inglesi incessanti e il continuo logoramento di macchine e materiali porterà la squadriglia a finire presto i suoi equipaggiamenti e presto ricci e i suoi preziosi specialisti furono costretti anche a diventare la forza azzurra e quindi imbracciare il fucile nella seconda metà del 41 gli italiani persero così a rar e così la base principale di dire d'agua ricci tornò in italia a causa di un'appendicite cronica che non poteva essere curata sul posto e la sua esperienza in quello scenario finì lì la sua squadriglia con 14 velivoli nemici abbattuti quantomeno chiudeva un bilancio positivo unica piccola soddisfazione in una guerra dimostratasi una sconfitta totale in un contesto in cui gli inglesi avevano ormai stabilito il dominio del cielo mentre piloti e specialisti italiani aspettavano aerei e rifornimenti che non sarebbero mai arrivati al suo arrivo in italia a roma nessuno parlava dell'africa orientale era diventato uno scenario dimenticato e il governo era alle prese con grane ben più incombenti nel suo libro è pieno di riferimenti ai combattimenti ai fatti di coi mesi molti di più di quelli che ho appena citato in questo video ovviamente comunque ricci da lì resterà a roma per fare per comandare la squadriglia caccia notturna distanza all'aeroporto di ciampino proprio in difesa della capitale dai raid notturni volando principalmente con il cr 42 e reggian 2001 reggiane 2001 all'atto dell'armistizio nel 43 decise di trasferirsi al sud dove fu nominato a capo delle operazioni basato su lecce sempre nei ruoli di caccia notturna al termine del conflitto ricci fu promosso a tenente colonnello prima e colonnello poi nella nuova aeronautica militare italiana collaborando con il centro studi della difesa a roma e poi nel 1954 venne trasferito sull'aeroporto di bari palese volando su p 38 prima e f 84 thunder jet poi passato dal quarto stormo a capo di stato maggiore per i piani speciali del comando nato è promosso a generale di brigata aerea nel 1960 dove contribuì agli studi missilistici sulla difesa aerea a partire dal 65 l'ultimo incarico fu quello di ispettore delle telecomunicazioni e assistenza al volo fino al 1972 dopo la morte della moglie e di un figlio in un incidente d'auto chiese di diventare sacerdote e missionario in africa dove si spense presso la sua missione nel 1995 nel suo libro che ho citato oggi la cosa che colpisce di più è la totale assenza di odio per gli inglesi anzi l'umanità e non solo sua ma dei suoi amici e colleghi nonostante gli anni terribili del conflitto con tutte le sue contraddizioni e certamente anche con un modo di pensare e di esprimersi leggermente diverso da quello a cui siamo abituati oggi i suoi racconti riguardano il suo gruppo che arrivò in quel conflitto dopo altri eventi molto più cruenti e sicuramente di non altrettanto valore umano del nostro contingente e di cui magari ne parlerò in futuro in un prossimo video sempre se youtube mi permetterà di farlo il suo libro come tanti altri che ho letto scritto da piloti di quel periodo si presenta con toni asciutti e pragmatici tipici di un linguaggio militare non ci sono fronzoli non ci si ostenta in niente ma solo la lucida realtà dei fatti e una analisi oggettiva necessaria quando si affrontano tecnologie e avversari sul campo la sua prospettiva che ritengo preziosa perché ovviamente queste memorie non si non si studiano non si raccontano nelle scuole è capace di dimostrare che quella generazione era fatta da uomini come noi italiani con tante idee diverse e provenienze e dialetti diversi ma comunque accomunati da un senso della patria e del dovere che spesso non avevano niente a che fare con la politica e il fascismo anzi troppo spesso fra le righe si percepisce l'enorme frustrazione e quel senso di sentirsi abbandonati proprio da quel governo che li aveva mandati a combattere senza viveri armi munizioni con aerei vecchi e inadeguati cosa poteva pensare un pilota di 20 anni mandato a combattere contro gli hurricane inglesi ve lo lascio immaginare e voglio dire gli hurricane non erano neanche i caccia più moderni in circolazione anzi per certi versi erano simili ai macchi 200 ma anche il macchi 200 in africa orientale era un lusso anche solo da immaginare ed è per questi sacrifici per le perdite di amici e gli orrori vissuti sulla propria pelle che l'otto settembre le scelte che i piloti italiani fecero a larga maggioranza furono dettate dalla posizione geografica delle loro famiglie di origine per potervisi avvicinare o per una questione di coerenza o fedeltà al paese più che ai rappresentanti politici con tutto quello che ne è conseguito e bisogna anche pensare che queste persone all'epoca si arruavano che erano poco più che ventenni erano avviatori non sociologi o filosofi ma a parte questo nelle memorie di ricci ho trovato lo stesso spirito di altri assi di cui ho letto le memorie come closterman galland boynton saburo sakai molto difficile anzi impossibile trovare odio nelle loro pagine anzi nonostante tutto c'è sempre una grande umanità e rispetto per l'avversario la convinzione insomma che la guerra aerea si svolgesse più contro altri aeroplani contro le macchine non contro i piloti e questo è concludo il mio video qui spero che vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e non dimenticate di lasciarmi un mi piace un abbraccio alla prossima